Dopo la sosta natalizia ricomincia il campionato di eccellenza e i Lions si preparano ad ospitare il Mogliano Rugby nella sfida valida per l'ottava giornata del girone di andata. I bianconeri si presentano all'impegno in programma sabato 9 gennaio al Beltrametti alle 15, rinnovati nello spirito grazie all'iniezione di fiducia portata dal successo ottenuto all'Aquila. Gli uomini di Achille Bertoncini sono desiderosi di ripetersi e allungare la striscia positiva, ma contro Mogliano non sarà un'impresa facile. La formazione veneta occupa infatti il quarto posto in classifica ed è tra le candidate ai play-off. Non è certa la presenza sugli spalti dell'ex bianconero e ora punta di diamante del Mogliano, Aristide Barrault per il quale è stata preparata una piccola sorpresa. Barrault era stato ferito negli attentati di Parigi del 13 novembre scorso. Il 15 schierato da Achille Bertoncini prevede anche novità rispetto a quello visto negli ultimi impegni di campionato e Coppa. In particolare si segnala l'ingresso di Hill e di Fraser, due nuovi innesti chiamati a rinforzare la rosa bianconera. Fraser partirà titolare in prima linea insieme a Lombardi e Cocchiaro. In seconda linea troveremo invece Cisse e uno fra Baracchi e Chiappini, ancora in ballottaggio. A completare il pacchetto di mischia, la collaudata terza linea formata da Capitan Fornari, Corneli e Ward. Confermata in cabina di regia la coppia Pasini-Zucconi, qualche novità nei tre quarti dove l'ingresso di Hill, al fianco di Forte, permette a Subacchi di spostarsi nell'ala dove avrà come compagno di reparto Albertin, mentre Trower sarà schierato nel ruolo di esterno.